Ciao a tutti friends, al vostro supercorris, eccoci qua ragazzi, ci siamo, gara pazzesca, erpica, dobbiamo cercare di fare una bella prestazione, non ho potuto fare la live di questo evento perché sono andato a giocare al calcetto e siamo tornati tardissimo, dovevo tornare alle 10 e invece siamo tornati alle 11.05, quindi mi sono buttato subito in gara, sono ancora vestito con la divisa del calcetto, pensate un po' voi, che storia, però va bene così, l'obiettivo è fare una bellissima gara e vedere un po' come va, dobbiamo prendere punti ragazzi perché stiamo giocando per la testa del campionato, qua c'è un altro italiano come vedete e come potete notare c'è 127 punti, noi ce ne abbiamo 157, quindi vedi, un altro italiano ancora, Zaguel 58, quindi siamo quarti in Italia, dobbiamo cercare di tenere la classifica, vediamo un po' che succederà, ma al solito friends l'invito è quello di iscrivervi a questo, al secondo canale Supercorris 84, non lo so veramente dove esce sto video, potrebbe uscire anche addirittura sul secondo canale, vedete, comunque iscrivetevi ai miei canali, lasciate un like, seguitemi su tutti i miei social, sul canale Telegram dell'offerte, Supercorris offerte Amazon, dove tutti i giorni mettiamo le migliore offerte di Amazon in ambito tecnologico e videogiochi, c'è Fruiterab, c'è Twitch, sono tutti i miei videocorsi sul livello di abbonamento platino, mi raccomando, se volete fare bene su YouTube e sui social li trovate, 10 minuti qualifica ragazzi, ci buttiamo in gara, speriamo bene, oh cazzo, vabbè non mi sono reso, come tutti i fuori sono andati, vai fratello, è veramente stupendo, cazzo, sento loschi quindi, non mi sono ancora ma lavati dai coglioni ma porco di lord ma lavati dai coglioni ma porca dia è palata ma treno troppo prima nooo sono andato lungo coglione vabbè raga io qua posso girare 36 tranquillo ma purtroppo non sto riuscendo a trovare il barco giusto quindi qua cerchiamo di migliorare un minimo per lo meno per recuperare qualcosa ma purtroppo niente non ci vedo bene alla prima curva non riesco ad arrivare al punto di frenata male 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 è ottavo ma posso fare molto meglio molto meglio posso fare molto meglio comunque amen questa si parte a franz si parte a franz no 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 eccoci qua finale molto bene valentino rossi primo 46 andiamo andiamo a vedere che succede speriamo qua di essere coinvolti in incidenti all'inizio e proviamo a prendere passo a 12 giri non dovrebbe esserci il pit stop questi cazzo di mezzi arabi sembra rombo lucazzo stanno ma fino a questo ci possiamo arrivare qua però devo migliorare tanto 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 eccoci qua due secondi ma eccoci qua dicco no fun Anche l'amai che cazzo voi. Che c'è l'olò tenuto ragazzi? Grazie a tutti. Siamo in lotto ragazzi. E vedi sto sbagliando io che non mi ricordo i punti di frenata. No, no, correo. Ma che sta a fare questo vattano? Ah, lavati dai coglioni, cazzo di... Eh, dai, perdinci. Cazzo di macchina di merda. Cazzo di macchina di merda. Cazzo di macchina di merda. Guarda che inizio a viaggiare pure io. Cazzo di macchina di merda. Cazzo di macchina di merda. Cazzo di macchina. E levati dai coglioni. Guarda quanto cazzo so coglioni, guarda. Guarda quanto cazzo so coglioni, guarda. Ma lavati dai coglioni, cazzo di merda. Ma vattene a fare ancora, va. Guarda quanto cazzo so coglioni, guarda quanto cazzo so coglioni. Guarda quanto cazzo so coglioni. Non mangiare sterco, vieni. Guarda quanto cazzo so coglioni. 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 Ah, fa le luci Sto recuperando pure sul primo Ma ora sbagliate, cambia marcia Sempre sui 12 secondi siamo 5 secondi dal terzo Cazzo, ragazzo, che fa il giro veloce Ma guarda come ti gira super Pazzesco, ragazzo, incredibile Grazie Sveglia tardi va di super Sveglia tardi va di super Giro veloce Siamo forti, la rifaccio, tanto c'è l'ultima gara Guarda quanto ha recuperato sul primo, ragazzo Stava a 12 secondi Pazzesco Ma chi è questo? Ah, quindicesimo La partita è coglione, ma Guarda che abbiamo il padio qua, guardate Pazzesco 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 Guarda che figlio di bottona, guarda che cazzo di infame pezzo di merda Qua si parte, ah, guarda che c'è sta, guarda che ristallata il pezzo di merda che ci ha speronato prima e mo lo crocchiamo e mo te crocchiamo, praticamente c'è la gente di prima ragazzi a correre non si sa come stai, mo dobbiamo fare le qualifiche, è meglio che possiamo, subito però abbiamo pure il radar che dice quando arriva la pioggia, se c'è la pioggia pesante ora ci staccheremo bene dagli altri perché non voglio avere l'ottore di palle guarda che cazzo d'anticappato porco zio mannaggia il diavolo porco che mi fa gambare te sto coglione di merda ma vaffanculo te ne vaffanculo e sto coglione di merda ma sparati ma te sta tutti facendo so di coglioni di merda vaffanculo dai vaffanculoizzatevi tutti quanti questi coglioni so di coglioni guarda facciamoli di stacca e fanculoizzare che dobbiamo fare la gara top noi questi nutri di merda ma che cazzo sta a fa' sto cretino cazzo cambate a fa' vabbè lui mi sa mai rotto per la macchina questa è la paura mi ha sbattuto mi ha rotto per la macchina questa è la paura no sta a fa' schifara dopo mi riesco a concentrare ma vedete che succede ma vedete che succede mi ha cazzano a combinar questi 4 cretini no mi ha rotto per la macchina 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 no ce l'ho ripresi dai pezzo a merda di Apex ci fai il miglior tempo miglior tempo via e si può fare meglio semplicemente preoccupare non mi arrivo pure io ci abbiamo sti inutili qua davanti a rompere i coglioni non stiamo migliorando molto quindi avvortisco sto giro faccio allontanare sta gentaglia via 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 infatti che sta pieno porco zio ma che sti fa passare eh raga il traffico no già il traffico del demonio io posso fare la polla raga facile guarda quanto sto migliora ragazzi cioè è pazzesco guarda quanto sto migliora voglio facciamo passare tutti va facciamo passare tutti non me ne frega no Cazzo facciamo passare tutti via ragazzi abbiamo la polla in mano se non sbaglio ancora dai andiamoci alla fredda eh dai dai su fatemi girare dai non rompete i coglioni ma vi spero no eh no no non sto a fare schifo voglio sto giro sbagliato ma è arrivata la pioggia mo quella forte mo secondo me non si migliora più nessuno ho il position e ora ne faccio ancora un altro e non lo faccio più un altro eh niente ragazzi ma ti faccio senti l'aria ma dobbiamo cercare non farci prendere ragazzi ai primi giri da questi qua questi sicuramente saranno molti pezzi eh niente ragazzi praticamente non c'era ripresa della gara che è durata neanche un giro perché sono partito già mi ero involato da solo poi praticamente un minimo di sbandamenti in curva ho striciato il muretto non si capisce perché ragazzi sto gioco adesso ci hanno messo dei danni che appena tocchi qualcosa si distrugge la macchina morale della favola mi sono ritirato ritirato avevo un passo per stravincere perché andavo l'avete visto nettamente più veloce degli altri la prima gara non era andata benissimo perché ancora ci prendevo il passo non avevo provato ci dovevo prendere ancora il passo la seconda gara potevo stradominare e non l'ho potuto fare dispiace tanto perché se non era l'infame là nella prima gara quell'inglese del cazzo là dopo chiami incazzo avevamo preso stavamo a 181 punti praticamente ero il primo adesso in Italia sta a 186-87 ero comunque terzo in classifica italiana ero a 5-6 punti dalla vetta ero ritornato in ballo e non avrei fatto la seconda invece ho fatto la seconda perché ero quarto e ho rovinato tutto ora mancano tre gare cercheremo di fare un grande risultato in tutte e tre le gare contiamo che qua avevamo il passo della categoria A io ho visto ciupaghetti questi che più o meno molti giravano peggio di me in categoria A quindi della fin fine ragazzi abbiamo un gran passo cerchiamo di fare tre gare per i prossimi tre venerdì all'arrembaggio e cerchiamo di tenerci perlomeno prenderci il podio italiano e cerchiamo di attaccare la vetta si può sono tre gare abbordabili e proveremo a fare bene intanto vi ringrazio per la visione vi do appuntamento al prossimo video del vostro percorso di gamer ciao a l'ioo 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 Grazie a tutti